Brutto inizio di play-off purtroppo, abbiamo dal punto di vista tecnico sofferto battute di ricezione, loro hanno fatto una buona battuta e noi abbiamo fatto i break solo quando siamo riusciti a tenere una buona battuta. Poi il resto non mi interessa, purtroppo alcune partite sono rovinate da un paio di personaggi che non meritano di rovinare il nome di Santa Croce e rovinare queste belle partite.